Bene, salve a tutti, volevo condividere con voi questo articolo dell'ottobre 24 del 2019, dove praticamente si dice in questo articolo che nel 2022, quindi fra 4-5 mesi circa, dipende poi chiaramente il mese che decideranno per inaugurare questa nuova religione mondiale, e qui noi sappiamo che ultimamente si sta parlando nella politica, qui anche il Papa parla di questa nuova religione mondiale, e parlano addirittura della fine dei tempi, in questa fine dei tempi ci dicono questi religiosi, hanno pensato bene di aprire, diciamo, questa nuova religione mondiale. Noi sappiamo che a breve ci sarà il cosiddetto, diciamo, Grande Reset, quindi il Regno della Bestia, e poi stanno preparando il Trono Spirituale della Bestia, che è appunto questa nuova religione mondiale. Qui, come potete vedere, ci sono tre palazzi, con delle luci, uno sarà appunto la chiesa cristiana, chiaramente falsa, ecumenica, poi c'è, diciamo, una moschea islamica, ed in fondo vediamo, non so, io adesso dico così, poi chi sarà dei tre non lo so, ma tutte e tre saranno sicuramente loro, sarà una sinagoga, diciamo, per quanto riguarda gli ebrei, e hanno fuso appunto questa nuova religione. Adesso vediamo brevemente, leggiamo cosa ci dice, Allora, scusatemi, cerchiamo di fare una... Dov'è? Vediamo qua, apriamo nel browser, ci fa una traduzione per quello che è possibile, chiaramente, in italiano. E quindi... Ok, la traduzione è arrivata, quindi una religione mondiale, Chrislam. Bene, il consiglio interreligioso cattolico musulmano voluto da Papa Francesco annuncia l'apertura della nuova sede Chris Islam nel 2022, quindi fra poco, che unisce moschea e chiesa secondo il patto formato. Però, chi lo sappia, ci sta di mezzo anche una, diciamo, la religione ebraica, e quindi con una sinagoga. Qui parla l'annuncio della Bramic Family House sull'isola, eccetera, fa seguito alla visita di Papa Francesco negli Emirati, ma comunque credo che dice negli Eremiti, Arabi Uniti a febbraio, la prima di Papa, diciamo, di Papa Francesco nella penisola arabica. Durante il viaggio, il Papa ha firmato una dichiarazione congiunta con il grande himam di Al-Azhar, eccetera, che invita la tolleranza religiosa e al dialogo. A seguito della dichiarazione è stato formato un consiglio interreligioso per sovrintendere ai progetti che promuovono la tolleranza e ha nominato il Comitato Superiore della Fratellanza Umana. Wow, che parole! La casa della famiglia abramitica è la sua prima iniziativa. Gli Eremiti Arabi Uniti costruiscono una nuova sinagoga come parte di un complesso interreligioso di Crisland che ospiterà anche una moschea e una chiesa. Ebbene, ecco, ci sta appunto la sinagoga. Ebbene, se mancano gli ebrei, giustamente non può essere, insomma, centralizzata appunto la religione. E secondo quanto riferito, aprirà nel 2022. Oggi siamo ai fini di settembre, inizio ottobre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio. Quindi, da febbraio in poi dovremmo vedere qualcosa del genere. Per quanto riguarda l'avanzamento della cronologia dei tempi della fine, ascoltate bene, per quanto riguarda l'avanzamento della cronologia dei tempi della fine, il 2019 è stato un anno eccezionale per il Papa Francesco e per la futura religione mondiale. Guarda caso, il 2019, no? Quando c'è stato il Covid. Vi abbiamo detto a febbraio che il Papa si è recato a Dubai, dove ha incontrato il leader musulmano, sunnita. Lì i due uomini hanno firmato un patto di pace globale, chiamato Documento sulla Fratellanza Umana per la Pace nel Mondo. Da quel patto fu creato il Comitato Superiore della Fratellanza Umana per attuare questo trattato di pace religiosa alla fine dei tempi. Sulla fine dei tempi. Sulla fine dei tempi. Quindi qui loro sanno molto bene quello che sta per accadere, sanno molto bene che deve venire l'anticristo, già c'è, ma ancora non è stato manifestato. E quindi forse i cristiani, ancora i veri credenti, non hanno capito quello che sta succedendo. Bene, la politica ve lo sta dicendo che c'è la bestia, che è già qui, no? L'ha detto Macron. Poi dobbiamo definire se è la bestia come sistema mondiale oppure l'anticristo. Ma sono tutte e due. Poi ne parleremo in modo specifico nei video che faremo. Qui i religiosi parlano appunto di questa nuova religione mondiale, sulla fine dei tempi. Però noi cristiani sappiamo, e noi dobbiamo parlare anche noi delle nostre cose, no? Cristo sta per venire. Gesù è alle porte. E veramente il tempo è finito. Ecco. Quindi, il nuovo, poi qui dice, ora quel comitato ha annunciato che ci sarà un nuovo quartier generale per questa impresa. Il nuovo splendente centro del Klicislam globale. Inaugurato. Deve essere inaugurato nel 2022. Ora, qui c'è chiaramente questo articolo, chiudo con un versetto di Isaia, capitolo 28 dei versi 15 e 16. Poiché avete detto, abbiamo stretto un'alleanza con la morte, no? Quindi questi che stanno appunto costruendo, diciamo, questo breve impero per Satana, ok? Poiché avete detto, abbiamo stretto un'alleanza con la morte e con l'inferno, siamo d'accordo? Quando il flagello traboccante passerà, non verrà a noi, perché abbiamo fatto della menzogna il nostro rifugio e ci siamo nascosti sotto la menzogna. Perciò, così dice il Signore Dio, ecco, io pongo in Sion come un fondamento una pietra, una pietra provata, preziosa, un fondamento solito, che chi crede, vabbè questa è la traduzione, non è precisa, dell'articolo, perché chi crede non sarà confuso, sta parlando di Gesù Cristo, la pietra, la vera pietra, angolare. Bene, io vi ho lasciato con questo piccolo articolo, siamo veramente, come dice qua, la fine dei tempi si sta svolgendo davanti ai nostri occhi, si sta svolgendo davanti ai nostri occhi, si stanno accelerando i tempi, a breve abbiamo questa nuova religione unica mondiale, che la Bibbia dice che si riunirà negli ultimi tempi, quindi la Chiesa Cattolica, l'Islam e appunto anche alcuni ebrei, si riuniranno insieme per fare appunto questo. Tuttavia il fondamento di Dio è saldo, avendo questo sigillo, il Signore conosce quelli suoi, si allontani dall'iniquità, dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo, secondo Timotio 2,19. Ecco qui, Gli Eremiti Uniti apriranno la sede interreligiose della crisi d'Islam nel 2022. Ecco qua. Non c'è bisogno che vi leggo tutto quanto, ormai avete capito quello che sta succedendo. Lascio il link sotto, e vi lascio anche il link di quest'articolo. Il Signore ci benedica, come dice il Signore Gesù, non mi vedrete più, non mi vedrete più, finché non direte, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Signore Gesù, Maranatà, viene Signore Gesù, Eccoci. Eccoci.